Come posso farlo capire a Bob? Lo so, è difficile da dire, è un bambino, ma si può convincere. Ma è solo un ragazzino. È l'unico testimone a provare che abbiamo al processo. Non vorrei metterlo in questa situazione. E allora dimmi la verità. Ma te l'ho detta la verità. No, non mi hai mai detto come sono andate realmente le cose. Keryl, fino a quando non cominci a dirvi quello che è realmente accaduto, io non posso difenderti. Hai ucciso tuo marito? No, ma ci ha provato. Ci ha pensato spesso. Stop! Riprendiamo tra dieci minuti con questa scena. Azione! Hai ucciso tuo marito? No! Ma ci ho provato. Ci ho pensato spesso. Perché? Lo sai perché. Non dire questo. Non posso più andare avanti così. Erin, per favore, questo è sbagliato. Non dirmi che quello che sento è sbagliato. Erin, per favore! Ora guardami. E dimmi che anche tu non senti la stessa cosa. Sì, ok, sono io, scusate. Da capo. Non doveva andare così. Questo è sbagliato. Non dirmi che quello che sento è sbagliato. Erin, per favore! Ora guardami. E dimmi che anche tu non senti la stessa cosa. Sì, ok, sono io. Scusate. Ma nessuno è preoccupato? Io non sono preoccupata. Voi? No. 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 Ok? Proseguiamo con il bacio. Grazie. 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 Grazie.